Ho scordato i pennelli! Torno subito! Oh no! bambini! basta! quelle uova si mangiano bambini e noi non lo sprechiamo il cibo scusa io mi assento un attimo e voi ne approfittate ok va bene vediamo di darvi una bella pulita molto meglio adesso eh ma che disastro voi bambini sì che sapete come creare disordine rimettiamo a posto ora mettiamo questi ovetti dentro a quello grande e saremo pronte per la caccia alle uova altre uffa ma vi avevo appena lavati uno c'è troppo disordine qui due glow pixie aiuto ormai dovremmo aspettarcelo sembra che cerno abbia bisogno di noi dobbiamo liberarci avanti glow pixie dobbiamo andare fiori a porta è come se le uova e la vernice si fossero mescolate formando una colla ci siamo caccia o non caccia ho trovato le uova questa stanza è un vero disastro volevo organizzare una caccia alle uova ma i bambini le hanno trovate prima che le nascondessi sta tranquilla so come risolvere il problema sei stata davvero grandiosa gigi avrei voluto ci fossero altre uova sarebbe stato divertente fare una caccia alle uova con i bambini altre uova eh? aspetta ho avuto un'idea portale lieto cuore apriti Gigi, Siena, bendate i bambini per favore e anche Charlie ok, la grande caccia può avere inizio prendete un cestino e trovate tutte le uova Teo, no! potrei farci l'abitudine